Guardare nel profondo ed entrare in empatia con i circuiti elettronici è stato sempre un mio desiderio e da Lidl l'ho potuto realizzare grazie al kit meccanica di precisione con lente di ingrandimento a circa 6 euro. Spacchettato ed assemblato in pochi semplici passaggi si avrà una stabile stazione per fare piccoli lavori di precisione di qualsiasi natura principalmente per saldature a stagno di circuiti elettronici e tante altre cose orologi gioielli eccetera. Se riuscirete a fare dei bei lavori sicuramente sarà ingrandito anche il vostro ego. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Grazie per la visione. 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 Grazie per la visione.